Salve a tutti, buon mercoledì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo dell'ultimissima circolare IMSS arrivata alle scorse ore che presenta finalmente i nuovi importi delle pensioni rivalutate per il 2024 e oltre. Vediamo insieme tutti gli aumenti perequativi annunciati dall'Istituto di Previdenza Sociale. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Come abbiamo discusso negli scorsi mesi IMSS ora ufficializza i nuovi importi delle pensioni 2024. Partiamo con il dire che le pensioni minime salgono a circa 600 euro, nello specifico a 598. Con l'incremento straordinario stanziato in legge di bilancio del 2,7% saliranno a 614 euro. Per quanto riguarda invece le pensioni di invalidità ovvero gli invalidi civili tale pensione salirà a 333 euro come avevamo già previsto in un precedente video. Inoltre nella circolare IMSS si trovano anche le tabelle per quanto riguarda la rivalutazione del 2024 ed è stato confermato tutto. Valutazione al 100% con un aumento del 5,4% e poi si scende man mano e si arriva all'ultima fascia sopra 10 volte il trattamento minimo. Quella che è stata modificata di nuovo al ribasso e la rivalutazione scende in questo caso al 22%. Per quanto riguarda infine le addizionali regionali e comunali da gennaio a novembre le vedremo a saldo mentre da marzo e novembre avremo anche l'addizionale comunale in acconto. Nella descrizione di questo video potete trovare il link che vi rimanderà direttamente alla circolare ufficiale IMSS per avere tutti i dettagli più specifici.